Il mio grazie di cuore ai miei figuranti, grazie Ma se no, fai un doppio cerchio, fai un doppio cerchio all'entrata Così, aspirate Così, così avete più spazio Quanto non esserci la tira Così, così avete più spazio Adesso potete veramente salutare e andarci Unendomi ai ringraziamenti di Mariangela all'amministrazione comunale E a tutta la città di Ploaghe A questi figuranti che oggi si sono prestati Vi chiedo un ultimo applauso, quello più importante A Mariangela che ha fatto questo lavoro A Mariangela ti tocca salire Un applauso a Mariangela Grazie a tutti e buonanotte 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 Grazie a tutti e buonanotte